È considerato da Google uno dei 100 migliori inventori di brevetti informatici al mondo. Uno fra tutti è l'iCloud, che permette di scaricare funzioni più pesanti dal PC o addirittura effettuare dirette streaming senza strumenti troppo sofisticati e assolutamente economici. Il brevetto è tutto italiano, anzi pugliese, e porta la firma dell'ingegnere elettronico Agostino Sibillo che ha trasferito in California, capitale dell'Information Technology, la sua sede di lavoro. A Sibillo si deve anche l'invenzione di un social network dove chiunque può trasferire online la propria attività guadagnando con un semplice click che corrisponde al numero di visitatori. Sibillo sabato ha fatto tappa a Barletta presso l'Art Academy, scuola di musica e canto per parlare ai giovani delle opportunità di lavoro nell'ambito informatico. La fortuna dell'informatica e l'informatica in generale si svolge sull'apertura al mondo, quindi quello che noi creiamo è un network, quindi quando parliamo di social network, quando parliamo di internet, in realtà parliamo di una comunità planetaria che si unisce, quindi non parliamo più di un lavoro dove una volta si poteva svolgere in un luogo specifico, ma parliamo di un lavoro che oramai si svolge davvero attorno a tutto il mondo. Ed sono situazioni che io mi auguro davvero che tutti possano in qualche modo far proprie, anche perché oggi il mondo del lavoro sta andando sempre più in crisi. L'informatica può aiutare tantissimo a venire fuori dalle crisi che noi oggi, che un po' tutti quanti noi abbiamo. L'informatica oggi è diventata sempre più uno strumento che permette ad ognuno di noi di esporci, di realizzarci, di metterci in contatto davvero con tutto il mondo. Tutto questo evolversi sicuramente ci sta portando verso un mondo dove la globalizzazione, dove l'unione tra di noi diventerà sempre più importante. Ed è per questo che io davvero mi auguro che la gente cominci sempre più ad affezionarsi, a cominciare ad impratichirsi nell'usare questi sistemi e quindi nell'utilizzare internet, perché molte soluzioni ai nostri problemi stanno là. Altri brevetti sono la creazione di una piattaforma che permetta a ciascuno di avere un canale televisivo e un software in grado di trasferire e trasformare il pc in server quando questo non viene utilizzato.